tutta la mia vita io ho detto io sono italiano fino a che ho fatto la prima viaggio in italia intorno di vent'anni e stavo con un altro italiano e lui mi disse no tu non sei italiano sei americano non sei cittadino italiano e non parli italiano e quindi da quel momento ho capito sì forse se non ho queste due cose che sono la base di essere italiano come posso dire che io sono italiano e da quel punto ho cominciato a fare un viaggio di esperienza I did my MBA in Milan and I started working for a bank there called Banca Sella I was working I was working on a trading desk between 2009 10 and 11 there was this huge boom in clean tech in Italy specifically solar photovoltaic Fulia which is just one of the regions within Italy produced 161 gigawatts of electricity the same year in all of China it was 160 sono l'unico che parla italiano dentro della famiglia ovviamente come tanti altri italo-americani sono conosciuto con una grande passione per per i miei radici adesso sono anche cittadino italiano da da cinque anni e in più ho sposato un'italiana senti sono sto facendo l'intervista adesso mi stai cacciando avanti di tutti quanti ovviamente sono orgoglioso della lingua